Attestavano sui documenti la presenza di migranti richiedenti asilo anche se non c'erano, incassando comunque i 35 euro al giorno previsti dal Ministero dell'Interno. Tre cooperative della provincia di Cuneo sono accusate di aver truffato lo Stato per 317.000 euro. Il nucleo di polizia economico-finanziario della Guardia di Finanza di Cuneo ha anche denunciato quattro persone controllando le erogazioni di fondi a favore di cooperative dove si sono scoperti comportamenti particolarmente odiosi in capo ai responsabili, tra cui lo sfruttamento del lavoro. Dalle indagini della finanza coordinata dalla Procura di Cuneo è emerso che un centro di accoglienza gestito da una delle cooperative a Montezemolo era solo operativo sulla carta per incassare il denaro e i dieci migranti presunti ospiti venivano usati per mansioni lavorative presso i privati. Alcuni erano anche stati arbitrariamente trasferiti in Liguria per svolgere attività lavorative in campo edilizio, cura e manutenzione del verde con compensi al di fuori di ogni norma di legge senza autorizzazioni o contratti. Sono stati sequestrati beni per equivalente del profitto di reato, oltre 300.000 euro.